si siamo qua con paolo porro pilota di rally nella vita privata un papà giusto di due figli tre figli la sua macchina attuale è una fiesta vrc giusto giusto ci parli un po della tua macchina qual è la sua potenza quanti cavalli ha eccetera volentieri no la mia macchina è una macchina 1.6 una for fiesta vrc 1.6 quindi le ultime generazioni del 2014 quindi non ha il cambio assistito elettronicamente come le ultime vrc del 2016 è una macchina quattro ruote motrici naturalmente con 330 cavalli e cambio sequenziale 6 marce e basta fondamentalmente questo motore come dicevo prima rispetto alle vecchie vrc rispetto alla focus che è un 2000 e un 1.6 compresso è una macchina molto potente e divertente da guidare sicuramente poi tu sei passato da una focus vrc a una fiesta vrc sempre sempre forze diciamo sì diciamo che msport è stata la prima la prima non essendo una una casa produttrice vera e propria ma essendo un'azienda è stata la prima poter mettere in commercio queste bellissime vetture quindi noi prima abbiamo acquistato la focus nel 2008 e con cui ho corso tantissimi anni perché ho corso tanti anni con questa ho corso praticamente 8 9 anni e poi siamo passati alle più moderne 1.6 che sono un passo avanti rispetto alla focus in alcuni aspetti hanno molta meno elettronica perché la mia macchina è completamente meccanica mentre la focus era parzialmente elettronica avendo il differenziale centrale elettronico come le vrc attuali le plus che ci sono adesso e aveva il cambio elettroidraulico assistito invece la mia fiesta vrc è completamente meccanica diciamo che la differenza sostanziale tra due macchine è la prescindere dalla potenza che la fiesta di meno ma è il discorso di della struttura di come come è fatta la macchina a livello di geometrie a livello anche di sospensioni per cui la macchina rispetto alla fiesta rispetto alla focus è molto più agile molto più veloce in curva è più un giocatolino fondamentalmente poi pesa quasi uguale perché pesa 30 kg in meno di fish però diciamo che la bellezza di queste autovetture è la velocità che riesci comunque a fare in curva rispetto alle 2000 che invece in curva è molto più lento devo farti davvero i complimenti per le tue livree che sono sempre stupende ci divertiamo un po quello sì ho una mia azienda con cui collaboro che si chiama mondial print di schio con cui collaboro da tantissimi da quando praticamente ho iniziato a correre che insieme da diciamo da fine anno dicembre in poi iniziamo a studiare la libreria per l'anno successiva naturalmente la base è sempre quella del mio sponsor del mio sponsor che è foxtown quindi va fatta su quella comunque lasciando quel logo e tutti gli anni ci sbizzarriamo cercare qualcosa di bello innovativo ma a me piacciono molto quelle che vediamo poi spero che piacciono anche al pubblico poi adesso ne ho fatta una che abbiamo modificato l'ultima livree che purtroppo spero di utilizzare quest'anno ma che al momento non si è potuto fare però rimottini è quella di mettere una dedica ai veri eroi di questa pandemia che sono naturalmente i medici gli infermieri e i dottori che ci stanno aiutando in questo disastro che loro sono i veri eroi e quindi sul tetto ho fatto una una loro dedica spero di poter attuare certo ci parli un po dei tuoi inizi come iniziato con che macchina chi è che ti ha spinto nel mondo del rally allora chi mi ha spinto nel rally mio padre perché mio padre correva negli anni 70 gli anni 80 e ha fatto anche qualche gara con gli anni 90 e ha fatto anche all'età di 70 anni qualche gara con la focus qui si è anche piaccato bene quindi naturalmente io ho cominciato a seguirlo che avevo 14 anni perché prima giocavo a pallone e a 14 anni ho cominciato a seguire i rally in maniera più profonda a 20 anni ho mollato il calcio mi sono dedicato ai rally ho fatto le cose naturalmente per grado perché abbiamo cominciato con una saxo n2 che è una macchina piccolina ho fatto un coppitalia lontano da casa perché avevo corso in liguria da cui volevo provare strade che non conoscevo con piloti che non conoscevo per vedere innanzitutto se ho portato e se comunque mi piaceva perché magari non ero bravo invece i risultati sono arrivati non bellissimi però i risultati c'erano perché comunque sempre nei primi tre di classe quindi da lì abbiamo cominciato quindi mi sono buttato subito nei trofei perché sono è la scuola di questo dei rally secondo me la scuola fanno i trofei perché sono tutti dentro con la stessa macchina tutti dentro col coltello tra i denti e poi ci sono anche dei soldi in palio quindi comunque ti aiutano anche per conchiudere budget quindi ho fatto il trofeo saxo per un anno nel 99 poi è stato chiuso e quindi mi sono buttato sul trofeo fiat con la 600 kit per tre anni e poi mi sono spostato su macchine un po più competitive tipo la cliu gruppo a dopo la super 1600 e dopo siamo passati alle ore c quindi ho fatto un percorso di step certo un'altra domanda che progetti hai per il futuro realistico non lo so ancora perché io non sono più giovanissimo perché ho fatto 45 anni da poco per cui intendo ancora utilizzare la fiesta finché si può e finché è performante ultimamente le r5 hanno raggiunto una delle prestazioni che sono molto simile alle nostre vrc per cui è sempre più difficile perché loro vanno avanti con il progresso e con l'evoluzione di queste macchine mentre noi siamo fermi al 2014 per cui hanno dei limiti alle nostre macchine che stanno man mano degli anni anche se sulla carta sono più potenti però si stanno sempre di più assottigliando e abbiamo visto che sono r5 ben portata da piloti che vanno forte forte riescono avvicinarsi ai nostri tempi quindi diventa diventa difficile quello che vorrei fare io è correre ancora con questa macchina con la vrc perché è bellissima finché come dicevo finché ne va la pena quindi nei campionati italiani e poi io e paolo mio navigatore quando abbiamo deciso che quando finiremo di correre questi campionati in italia tra cvrc o irc che sia proviamo a fare qualche gara di mondiale ok e dopo vediamo un po cosa ci riesce a futuro perché quando abbiamo iniziato a correre poi faremo una dakar che è un'altra tipologia di gare per cui non si sa siamo ancora tra le guardate giovani per pensarci ma comunque una cosa che c'erano un po' prefissati si corre finché si riesce a essere competitivi comunque ma ma quello si poi si corre per il piacere di correre in macchina però io lo spirito competitivo ce l'ho sempre quindi nel momento in cui vado dentro e lotto per le prime posizioni allora ci si diverte ancora di quel momento in cui vedremo che non saremo più veloci allora faremo sempre magari in un motosport o faremo gare secondarie o gare di mondiale dove non guardi la prestazione pura perché non sei lì per fare la prestazione ma per il gusto di correre determinate gare e soprattutto di portarlo fino fino al fondo volevo chiederti di dirci se hai una gara preferita un rally preferito in italia o non ma di gare non fate tantissime non avete proprio più di 200 gare e le gare preferite ce ne sono non ce n'è una in particolare ce ne sono tante può essere marca trevisiana che ho vinto tre volte può essere il salento che secondo me è una gara bellissima anche se è molto difficile particolare ma è unica nel suo genere ce n'è una al mondo così che io riesco anche andare abbastanza forte quindi è una gara che mi piace san mattioni castrozza immerso in alcune in alcune località naturalmente di montagna che sono stupende quindi c'è il contorno da vedere oltre le prove stesse che sono bellissime le gare di quest'anno gli rc sono bellissime a livello di prove speciali magari sono posti meno ricercati come ci può come può essere san martini castrozza ma sono comunque gare bellissime il taro una gara stupenda il passano nel grappa l'ultima gare che purtroppo mi è andata male comunque sono prove bellissime quindi ce ne sono tante di gare non ce n'è una in particolare non ci sono affezionato a una gara in particolare c'è a dire che il market prodigiano è quella che ho fatto più volte e l'ho vinta tre volte quindi ha un certo feeling con quella e poi rally di casa rally di como che è casa mia per cui dove c'è la famosa prova della valcavarnia che il signor paolo andreucci ha detto che forse è la prova più difficile di tutto l'italiano perché è una prova veramente importante sì ti ho visto tante volte a rally mille miglia io san martini di castrozza visto che rally mille miglia è il mio rally di casa essendo bresciano è bellissimo ma mi ha sempre portato un po di sfiga nel senso non sono mai riuscito a finirlo bene per mille motivi o per errori miei o per la rottura soprattutto per rottura della macchina ho sempre avuto mille mille travagli su quella gara lì che mi piace moltissimo perché è una gara che mi piace tutti gli anni l'affrontavo con voglia di fare meglio ma per un motivo o per l'altro non riuscivo a portarla a termine quindi è rimasta un po indigesta però è una gara bellissima sempre piaciuta tanto sì sì certo la prima volta con la clio quando nell'italiano ed era veramente lunghissimo una gara infinita però è una gara una gara coi coglioni quella gara lì è bella una bella gara sì sì avevo la domanda se avevi un pilota di riferimento ma mi hai detto che tu a pa correva comunque te la faccio ma il mio padre è più che altro un punto di riferimento non è un è un punto di riferimento perché perché comunque lui che mi ha insegnato tutto inizialmente mi ha portato a amare questo sport e per cui fondamentalmente lui i piloti di riferimento ce ne sono tanti secondo me il pilota di riferimento globale può essere un carlo sainz ok perché è un pilota estremamente intelligente è un pilota non velocissimo a livello velocità pura come poteva essere mccree però è una persona intelligente che comunque è riuscito con tutte le sue doti arrivare dove è arrivato a vincere quello che ha vinto quindi quello potrebbe essere un riferimento adesso come adesso potrei dire ti lobo potrei dire ma sono cose che le sanno le sanno tutti quelle sono scontati è abbastanza da chi è che non vorrebbe essere come lobo di solito quando fai un rally prima c'è una preparazione sei scaramantico sei in ansia o sei tranquillo quando fai una gara ma io ho detto coro da 21 anni quindi ormai l'ansia l'ho lasciata ai giovani quando ero più piccolo che cominciate con i trofei veramente tanto in ansia il giorno la mattina della gara mi svegliavo un'ora prima volta stomaco bianco in faccia tremavo nevo di tutte adesso no adesso sono molto più rilassato perché comunque conosco i miei mezzi conosco la vettura che è importante perché le vrc comunque rispetto anche le macchine ti danno molta più sicurezza vai molto più forte ma c'è la macchina c'è nel senso mi ricordo quando correo con la saxo quando rilanciato a 170 all'ora in discesa quando frenavi pregavi in dio di fermarti qua sei a 190 freni la macchina si ferma quindi non è che hai che hai più difficoltà però con l'esperienza che ho mai diciamo che l'ansia l'ho lasciata fortunatamente alle spalle adesso mi gusto proprio un rally proprio fino in fondo naturalmente ci sono alcuni momenti della gara che sono un po più in ansia perché comunque magari ti stai giocando al primo posto sei l'ultima prova speciale quindi sei più concentrato però non è mai timore o paura e concentrazione tutto qua qual è stata la tua auto preferita da rally e quale macchina vorresti provare ma sicuramente l'auto preferita ce la stiamo giocando tra focus e la fiesta nel senso che la focus in particolare perché con la focus che è stata è stata la prima marca in cui ho vinto un assoluto quindi era la mia macchina quindi ha un film particolare quella che vorrei provare sicuramente una plus mi piacerebbe provare una toyota e però è una cosa che non so se succedeva mai e ci spero poi al momento è una cosa abbastanza proibitiva un po per tutti tu hai avuto un po di navigatori da cargielutti arena a tomasi giusto certo il navigatore cargielutti corro con lui dal 1999 quindi è più con il navigatore un amico un amico di famiglia è come un fratello per me quindi dividiamo con lui tutto oltre che le gare quindi anche le nostre vite personali private e naturalmente il navigatore purtroppo anche lui a volte non ci può essere perché ha impegni di lavoro per cui lo vado a sostituire con dei navigatori altrettanto validi e con cui comunque mi sono sempre trovato bene come potrebbe essere nicola arena forse una gara sola ma io nicola conosco tanti anni e mi sono trovato subito bene come anna che adesso corre fissa con 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 luca e come paolo brosadelli che è mio carissimo amico vicino di casa che con cui ho fatto tante gare quindi diciamo che le persone che vanno a sostituire paolo sono tutte persone che mi danno fiducia ecco non sono persone campate l'inter aria insomma certo anche perché il pilota deve avere un certo feeling con il proprio navigatore per esatto esatto per le cista ma in macchina ci sta tanto tempo insieme quindi se si va d'accordo è più bello giusto e basti con paolo ho fatto il calcolo avremmo fatto praticamente quasi un anno intero in macchina siete percorri le ore che ci sono un anno in questi 23 anni abbiamo percorso un anno intero la nostra vita in macchina insieme per cui quanti chilometri fatti tra ricondizione gare così è una cosa che è difficile ormai da da chiudere o da penso che il mio futuro sarà sempre con lui fin quando lui avrà voglia e avrà voglia di continuare a correre poi poi vediamo il futuro non è così come abbiamo visto quest'anno qua assurdo che non è mai così certo purtroppo perché quest'anno una roba del ingegno se la penso che non se la sarebbe mai aspettato nessuno certo deve essere dura stare a casa sia per voi piloti che per noi tifosi lontani dal rally che questo nostro mondo che ma è diciamo cia passione è una cosa in comune che sa passi sicuramente però ricordiamoci siamo a casa a parte i rally che non è un divertimento per voi come per me e come per gli altri è più che altro un mondo del lavoro con l'economia e tutto quanto per cui è un po il problema un po più più grosso di quello che potrebbe essere nei rally che se non corro quest'anno corrono prossimo però il problema è tutto quello che ci gira intorno ma anche perché poi sono convinto che quest'anno purtroppo si correrebbe un poco ho tante idea che quest'anno sarà ben dura trovarci sulle strade io ti auguro il meglio per quando riprenderanno le gare grazie mille spero che vedermi in campo gara che ci conosciamo di persona certo dove corro lo sapete quindi venite a trovare per me è solo un piacere ok salutiamo i ragazzi di youtube che ci seguono e speriamo di rivederti e buona fortuna grazie mille in bocca al lupo viva al lupo e faremo del nostro meglio per divertirci noi e far divertire voi sperando che qualcuno guardi giù e mandi via sta mostriciattolo come lo chiama mia figlia grazie paolo ciao a tutti scusate i guanti non sto operando ma purtroppo sapete che bisogna metterli sto lavorando e quindi bisogna metterli per forza ciao a tutti ciao ciao ciao